ciao ragazzi oggi è il 13 luglio 2013 e sono di nuovo a passeggio con mio figlio cristian che ha sei anni ecco girando girando finalmente abbiamo trovato un bel porcino eccolo qua lo filmo io e stavolta hai visto dove non ce la faccio più arrivare a prenderlo aspetta fai il giro di lì fai il giro di qua così lo prendiamo senza farli senza romperlo allora ecco cristian adesso vi presento cristian guarda qua guarda noi cristian eccoci qua guarda e ciao e noi cristian c'è anche lo zaino con l'acqua tutto necessario e adesso ti do una mano io opla sali su sali su scusate se è un po mosso ma adesso lo prendilo da sotto è sotto dal gambo dal gambo sotto giù 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 nella terra aspettate eh mi do solo una mano prendilo tiralo giralo un po' che bomba tienilo fermo sei contento eh hai visto mamma mia che bello anche che bomba che come si chiama porcino porcino bomba è vero e va bene allora come ho promesso tutti i miei amici di youtuber abbiamo fatto un'altra uscita e com'è andata bene ok allora saluta tutti gli amici youtuber e mettiamo anche il fungo e bomba nel cestino esatto dici ciao a tutti ciao a tutti e al prossimo filmato eh si se troviamo qualche fungo facciamo un filmato ok aspetta che finiamo bene il fungo mamma mia mamma mia mamma mia mamma mia ma che bello bravo cri cri eh vieni giù che io faccio vedere bene i nostri amici eh andammo a me scusate eccolo qui guardate che bel fungo eh beh direi che abbastanza bello niente male eh bim eh cri cri eh si adesso lo puliamo è vero? si lo posso schiacciare eh? posso schiacciare un saluto a tutti ciao 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 Grazie a tutti.